5 anni senza Padre Dall'Olio, qual è il ricordo che conserva di lui? Padre Paolo come uomo di pace, come uomo che testimoniava la pace in un luogo, la Siria, di grande violenza, di grande conflitto religioso e sociale. E Padre Paolo è stato l'uomo che si è posto in dialogo con i musulmani e con l'Islam, ma si è posto in dialogo anche con la società siriana per cercare di fare operare una rivoluzione pacifica, era il tempo delle primavere arabe e lui sposò molto la causa delle persone in qualche modo nel quale il dialogo interreligioso era forte. La Siria è un paese di martiri, ma non è il solo. Dove i cristiani muoiono? Dove i cristiani muoiono è un titolo di questo libro, nel quale parliamo di Iraq a Mosul, parliamo di Garissa in Kenya, di Dadaab Refugee Camp ancora in Kenya, nel confine tra Sud Sudan e Somalia, parliamo ancora di Gaza. In particolare a Garissa, cosa avete trovato? Garissa purtroppo è il martirio più nascosto. Di Padre Paolo ogni anno vi è una bella commemorazione, mentre per quanto riguarda questi 148 ragazzi, uccisi il 2 aprile di 2015, nessuno più parla. Uccisi dagli integralisti islamici di Al-Shabaab, entrati nel campo universitario la mattina presto alle 5 e iniziando una mattanza di tutti coloro che erano cristiani. Da questo luogo ho portato una reliquia molto singolare, sono stato nel luogo dove i ragazzi sono stati tutti uno per uno uccisi, sparandogli un colpo alla testa e mandandola in mille frantumi e calpestandola con l'idea di togliere anche l'identità. Sono riuscito a strappare un pezzo di linoleum intriso del loro sangue. E questo linoleum mi dà molta forza, mi dà anche molto coraggio, pensando che oggi ci sono ragazzi dai 18 ai 22 anni, questo era il target di questi ragazzi, che vengono tutti massacrati per il nome di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.